Per una giornata speciale ci vuole una colazione speciale. Uffa, non è giusto. No, devo escogitare subito qualcosa. Ci sono! Oh, quello è Sasuke e mi sta fissando. Chi voglio prendere in giro? Hai proprio una fronte irresistibile. Non so perché, ma vorrei tanto baciarla. Sule! I sogni possono anche realizzarsi, sì! Era una battuta. Sarebbe più adatta a uno come Naruto, non credi? Dimmi una cosa. Che pensi di Naruto? Ho come il sospetto che gli piaccia molto farmi soffrire. È che neppure lui sa come sono fatta veramente. È un rompiscatola. Io mi accontenterei di essere notata da te, Sasuke. Farei qualsiasi cosa. Questa era il tuo affetto. Sono stato un ingenuo. Mi sento tanto sola. È veramente irresistibile. Ma dove stai andando? Mancato un pelo. Ah, che bello, sei tornato! Scusa, ma dove stai andando? Dov'è, Naru? Lascialo perdere. Tutta colpa di come è cresciuto. Tutti che è rimasto orfano da piccolo. Motivo, fanno sempre tutto quello che vogliono. È meglio avere qualcuno che ti rimprovera che essere soli. Adesso basta. Sei noiosa. E come hai fatto a liberarti? Lo scioglimento dei nodi è una tecnica base. La tecnica della moltiplicazione. Arrenditi, Sasuke! No, ma devi passare! Senti io! Che imbranato. Ha detto che sono noiosa. Ci sono rimasta molto male. Devo cercare di essere gentile con Naruto. Sarato. Naruto. Sorridi, sorridi. Naruto, io torno in aula. Vieni con me. A me? Quello è sicuramente Sasuke. Io quello lo detesto!